Salve ragazzi, benvenuti in questa battaglia della seconda Nightmare dei support a Flesh on Break Qui dovremmo affrontare Genova Death Come Eleganan questo boss aggira due volte Quattruna, il boss sia fisico che magico, con attacchi sinistra e singoli che all'aria Tra l'obiettivo è un attacco, una magia e mette gli poison E in più, con attacchi gli posso mettere silence, quindi bisogna fare attenzione Per avvenenare l'ho portato di Dan, che potendo usare il support 3, ho potuto mettere i Panem Buster Mamma mia E poi ho messo il Self Power per ridurre così anche l'attacco Ok, quando si è zero, avversare l'attacco di Dan, che potendo usare l'attacco Comunque, non mi interessa se vengo si iniziato Il primo primo passaggio che dovete avere, sarà il Stola Ho bei danni questo boss Un momento di interroppo per recuperare un po' e mettere il Beleno sia che fa in avvantaggio perché tra gli obiettivi Ok, interroppo da un dato Il Beleno non posso sapere perché l'icona è coperta Ok, è in assoluto avvenenato Quindi ora con Gitan posso fare qualsiasi cosa E' in assoluto avvenenato E' in assoluto avvene Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.